Benvenuti nella nostra cucina. Oggi prepariamo il porco di roma antico romano, con una salsa di apiccia, dal quarto libro della Recoquinaria. Iniziamo con gli ingredienti. Potremmo il porco di roma, vino, garum, mani, spezie e erbe aromatiche, pepe lungo, coriandrino, l'oviglio, menta e roma. Poi mettiamo il porco di roma su bologna con una buona quantità di olio d'oliva e lo rossiamo in un testum per circa 1,5 ore. Testum è un ovenio portabile antico, perfetto per essere posizionato nel posto o in grado, ma potremmo usare il vostro ovenio regolare per questa ricetta. L'originale richiede un peggio d'oliva, sembrato e dimenticato con un peggio prima di servire la salsa di roma. Abbiamo usato solo un peggio di porco, un peggio, che è molto meglio rossato. Ma se preferisci, seguite le direzioni originali, utilizzando il corte del peggio d'oliva che preferisci. Abbiamo scelto questa ricetta per la nostra festa di Saturnalia, una delle festività più importanti in Roma antica, che, dipendendo sul periodo, era celebrato tra il 17 e il 23 di dicembre. Saturnalia si è caratterizzata dall'esercizio di doni, l'alzamento delle candele e la rivoluzione di roma, tra i maestri e i scambi. Ancora a Macrobius, che rappresenta alcune storie sull'origine di questo festivale nel suo libro, intitulato Saturnalia, questo peggio celebrava Saturno, che insegna il re Janus l'arte dell'agricoltura, in tempi antichi predattando la fondazione della Roma, con una serie di tecniche, come trasplantare, sfruttando, sfruttando e maniurando il soio. Per un periodo Saturno regnava in Italia, nel territorio che Janus si chiamava Saturnia, dopo sua disperanza. Il regno Saturno era caratterizzato dall'abondanza di creme e dall'absenza di discriminazione tra i scambi e i libri, una delle ragioni per cui, durante la Saturnalia, i scambi sanno alla tavola con i loro maestri. Per le candele, Macrobius scrive che qualcuno crede che simbolizzano la passata, grazie a Saturno, da un'obscura e semplice vita, alla luce del compito delle arti liberali. Ma, secondo Macrobius, c'è una esplanazione più semplice. Molti chiamavano che i loro clienti abbassassino i loro doni costanti per la Saturnalia. Ma la tribuna dei plebiosi pubblici ha approvato una legge per aiutare i pochi, che necessitano che solo le candele devono essere doni come doni per i ricchi. Inoltre, prepariamo la salsa chiamata Ius Apicianus nel testo. Ci sono alcuni metodi esplicitamente attribuiti a Apicius in Dereco Quinaria e in Plini's Naturalis Historia. È interessante notare che, anche se non possiamo essere sicuri che la ricchi Quinaria era in realtà scritta da Apicius, come convenzionalmente stabilita dalla tradizione, almeno alcune ricette probabilmente sono, includendo questa. Aggiungiamo nel mortaio le spezie e le erbe aromatiche, poi li dilutiamo con doni, il garum e il vino. Abbiamo usato circa un tablespoon di doni e il garum, e due di vino. Se chiamate un corto di porco, come loin, suggeriamo ridurre l'amonte di doni. Se non hai una ruta, usate un'altra erbe aromatica, per esempio il paraccio o il cilantro. Potete sostituire il garum con una salsa di pezzi, la salsa di alici, la colatura di alici o la muria, o due piccoli di salto. Per preparare da scopo il garum e la muria, guardate i video listati nella descrizione qui sotto. Nel epigramo Marshall troviamo una serie di doni tradizionali per la Saturnalia nei ultimi due libri, dedicati alle note che tradizionalmente accompagnano i doni, come alcune liste. tra le mani troviamo i torri, i torri, le pannella, le pannella e le pannella, le oliva, le pannella, le pannella, le pannella, le pannella, le pannella, le pannella e molti altri. In alcuni casi le noti sono chiaramente una gioca, per esempio una che accompagna i torri, in cui Marshall scrive che sono la stessa cosa che Romulus enjoys in gli avanti, o una assente con le lecce, in cui l'autore admonica, se lo mangiate, dovete mantenere la mano a ferma quando ammigliate qualcuno. Per sapere più sulle mani e tradizioni antiche, guardate il nostro libro La cucina di Roma e la nostra pagina di Patreon, in cui trovate articoli e tradizioni di storie storiche, tra cui i primi 8 libri della Recuquinaria. Se siete interessati nella transizione tra la cucina antica e la cucina medievale, leggete l'Observazione Ciborum, le ricette medievali, alle ricette medievali, nella corte dei Francoli. Per la cucina antica medievale, guardate il libro della cucina di ricette medievali, e registrate una cucina di cucina medievale. Per più informazioni sulle erbe nella cucina storica, leggete le ricette italiane, vegetali, frutta, erbe e flore. Per supportare il nostro lavoro, puoi anche comprare una birra e comprare il nostro mercato. e per l'appeto. Trovate tutti i link nella descrizione qui sotto. Questo rostro fu sorprendente delicato, con la ricetta del riso del carne, perfettamente sbagliato con una salsa di spicco, leggermente sceglie e sceglie. Per un piatto perfetto Saturnalia, vi raccomandiamo di servire con alcuni appetizzi, ad esempio patina lettuce, tagliato con musterdo, e una salada con pezzi di pezzi e pezzi grini. Poi puoi prendere fabbaccia e un po' sceglie, per esempio enchitum e savillum. trovate i link ai video nella descrizione qui sotto. Se siete interessati a alimenti e sapori antichi, ascrivete al nostro canale e consider supporti nozompetron. Grazie a tutti!